Buongiorno, Mirko Candiani, Product Manager McCormick Gamma Alta Potenza. Siamo qui a Cimà per presentarvi i nuovi prodotti X7.4 McCormick e X7.6, entrambi in versione ProDrive PowerShift con trasmissione ZF, motorizzati Beta Power Fuel Efficiency. Abbiamo tre modelli 4 cilindri e tre modelli 6 cilindri, partendo da 143 CV fino a raggiungere 212 CV con l'introduzione del Power Plus. Qui a Cimà abbiamo presentato al 3C i modelli in versione VT Drive con trasmissione variazione continua, assembly derivazione ZF. Avremo tre modelli 4 cilindri e due modelli 6 cilindri, andando a coprire una gamma di potenza da 143 CV fino a 192 CV. Inoltre quest'anno è stata introdotta una nuova tecnologia per McCormick, quale la disponibilità del monitor DSM Data Screen Manager, un monitor innovativo 12 pollici touchscreen e in opzione sarà possibile avere la gestione della connessione ISOBUS per le attrezzature che la supportano e sempre gestita con un menu dedicato all'interno del monitor stesso. Parlando di agricoltura di precisione, McCormick mette a disposizione del cliente finale la tecnologia PSM, Precision Steering Management, sempre gestita dal monitor 12 pollici touchscreen che permette un'agricoltura a punto di precisione utilizzando la guida satellitare. Un'altra funzionalità che è resa disponibile al cliente finale è la funzione Easy Steer che permette la guida attiva della trattrice.